It's my life E per chi ancora l'ha sentita questa parola Signora Pace è una benedizione È una parola che unisce, si dice, cielo e terra Quindi si inizia sempre con shalom È un modo mio per iniziare sempre le conferenze, i corsi Qualsiasi anche email che scrivo io mi firmo sempre Coach dell'entusiasmo e treni di sviluppo personale E prima metto sempre la parola shalom Perché ogni parola, come voi sapete benissimo È portatice di una frequenza, di un'energia Di un atto co-creativo, si dice È vero? Allora, siccome io mi tocca Sarà il quarto convegno Che mi tocca, chissà perché, il primo intervento Mi tocca un po' spezzare, si dice il fiato Allora, è un modo per aiutare Faccio il cuocio, faccio il mio lavoro Anche il mio lavoro Allora, siete d'accordo con quello che ho detto fino adesso? Sì Ok Questo è il massimo di quando uno sta ancora dormendo Poi viene il meglio, poi alla fine Poi arriva l'altro relatore alle dieci Ah, tutto è bello Ok, allora, se questo ognuno E questo fa parte anche di una logica Non è a caso che accadono queste cose Non per essere fatalista Ma per vedere come veramente noi siamo in questo atto co-creativo E allora, il mio intervento di oggi è Entusiasmo World Vi ho appena detto che mi definisco coach dell'entusiasmo Perché è un progetto che mi accompagna da sempre Ora scopriremo perché Quello che oggi nel mio intervento ho portato per te È un qualcosa che sicuramente non è tanto una relazione A me piace quando faccio un intervento Cercare di manifestare quello che è una specificità Parlo un po' Non entro nello specifico perché desidero e voglio che poi voi guardiate E scopriate man mano quello che sono le parole chiave I punti nodali perché voi possiate veramente È vero cuore portarvi a casa un qualcosa Che vi dia uno strumento in più La felicità, l'abbondanza, la prosperità nella nostra vita Voi sapete la partita della vita non la vince Chi ha ricevuto le migliori carte alla nascita Ma chi utilizza al meglio quello che possiede Ok? Quindi significa che se io non sono un metro e novanta Io quando sono con alcuni miei colleghi Qua ci incontriamo Praticamente sono tutti da un metro e ottanta in su E io dico sempre è un problema tuo Cioè è un problema tuo Mi dispiace Però pure sono delle amiche mie Che sono qualcuna C'era una vostra stessa dell'uffianza Lo scevamo così insieme Il gruppo eccetera eccetera E mi dicevano gli amici E mi dicevano Guarda Ma che bella ragazza Alta c'è E adesso è un problema suo Che non riesce a risolvere Quello diciamo che è importante È comprendere che noi siamo Nel posto giusto Nel momento giusto Per far la differenza Nella nostra vita E poi nella vita degli altri Per emulazione Anche per vicinanza Direbbe qualche maestro Qualche maestro Che cerca chi è meglio di te Stai vicino agli illuminati Stai vicino ai santi Perché la loro presenza Porterà cambiamento in te Proprio cambiamento Da noi si dice Beato chi sta vicino al re C'è un detto popolare Beato chi sta vicino al re Cerca oppure cerca chi è meglio di te E perdici Perdici le spese Perché effettivamente Noi ci trasformiamo Stando vicino a persone Che in quella parte del sentiero Del cammino Hanno scoperto Hanno ottenuto dei risultati Magari poi tu Sicuramente Sicuramente nel senso che L'esperienza mi dice di sì Tu sarai maestro Maestra di qualcun altro Anche di quello Che ha scoperto delle cose Perché ognuno di noi Siamo Diciamo Dei saggi Rispetto ad alcune cose Questo è comprendere Che non c'è qualcuno Da mettere su un piedistallo C'è qualcuno Che ha Una specificità Da condividere Perché In quel momento La mia vita Mi chiama Ad essere in un posto Allora Mi viene facile dire Ok Siete le persone giuste Al momento giusto Siete quelli Che questa mattina In diretta Perché La diretta La presenza è diverso Della differita Quando faccio le web conferenze Io sono pure un web imprenditore Nel senso che Su internet Trovate di più Di quello che Magari c'è live Per quanto mi riguarda Spendo negli ultimi anni Prima giravo sempre in Italia E non solo Ho potuto tenere corsi in aula Ma L'aspetto web Mi permette di avere contatti Con migliaia di persone E poi magari Ci si incontra Per me questo Ho detto su Facebook E altri Chi c'è Ci incontri Un modo per vederci Anche fisicamente Che è importante Perché La presenza Quando faccio le web conferenze Dicevo Di solito Ci sono per esempio Mille persone Che devono Seguono Un mio ambito Dell'entusiasmo world E magari Me ne trovo In sala conferenza Dieci Oliver Alcune volte Qualcuna esce Entra Poi magari Se c'è qualche ospite Che intervista Qualche mio collega Arriva magari Un nome più Diciamo Più conosciuto così E si arriva a 100 Quello che E io dico Ma dove sono tutti gli altri E dico loro Anche se Poi lo ascoltano In differita Perché poi in differita C'è il file L'mp3 Lo ascoltano poi Migliaia e migliaia Di persone Perché poi Sta mesi lì Su internet E gira Con una sua dinamica Quasi una sua vita Autonoma Io dico Guardate che Chi è in diretta Chi mi sta Scuola È diverso Della differita C'è poco da dire Perché c'è Un allineamento Di mente e di cuori Che crea differenza In questo momento Presenza È potenza È esserci È diverso Di pensare Di esserci Oppure addirittura Di Allora Quello di questa Il mio andamento Stamattina Oltre che Di inaugurare Questo giorno Che nessuno Ha mai vissuto Prima Quindi De prendere Consapevolezza Che ci sono Delle cose Che stiamo Vendo insieme È che In questo momento Tu Indubbiamente Fai la parte Di colui Che deve ascoltare Non solo Le informazioni Ma Deve portare Una Transformazione Nella propria vita Deve avvenire Una trasformazione E per decidere Questo C'è Soltanto Una persona Che lo può Fare per te Scopri Chi è Sono lottando tu Se tu Ti dai Il consenso Cioè se vai Nella stessa direzione Nel senso con Se fai Ti dai tu il consenso Tu stai utilizzando Al meglio Quello che è Questo spazio Nella tua vita Non ci sarà Mai un altro 24 aprile 24 24 aprile Questo sabato Non si ripeterà Mai più Nella tua vita In quest'ora Quindi tu stai Decidendo In quest'atto Co-creativo Cosa è Effettivamente Portare questa Trasformazione E Prendi Ciò Che adesso Ti Senti Allineato Con il tuo cuore E con la tua mente E lascia tutto il resto Quindi Fatto questo Si chiama Mini Patto d'aula E mi interessa Se siete d'accordo Con quest'accordo Siete d'accordo Con l'accordo Allora Chi è d'accordo Con l'accordo Vi chiedo troppo Lo so Alzi la mano Ok Quasi Quasi la totalità Geli Un passo avanti Prima Si Ora Se arriviamo Poi Immagino Prima Che finiamo Cosa facciamo Ok Allora Entusiasmo world Un mondo Per migliorare Se stessi Le proprie finanze E il mondo Vado perché Altrimenti vi anticio La radice etnologica La parola entusiasmo È Enteos Quando io dico Sono una persona Lo so che queste cose Le sapete Permettetemi di Come dire Di non dare per scontato Che tutti sappiate queste cose Perché un detto Una conoscenza ci dice Parla allo scemo del villaggio E ti capirà anche il saggio Di conseguenza Significa Scegli il passo Di chi Magari l'ultimo Che non significa Il più ritardo Dato mentale Significa Che la persona Ci manca quella conoscenza Perché una delle Interruzioni Che abbiamo Nel nostro comprendere Quindi prendere con noi È perché manca Qualche tassello Noi parliamo Parliamo Ma diamo per scontato Che la persona Che ci sta ascoltando In quel momento Sappia Tutto quello Che io voglio trasmettere Assolutamente Sapete che non è così Quindi assolutamente Errato It's My Life 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 Life